Spugne! Ma lo sapevi che utilizzando loro, quelle che per intenderci si usano per lavare i piatti o semplicemente per farsi il bagno, si possono con dei semplicissimi trucchi trasformare delle piantine di orchidee che ormai hanno le radici secche e le foglioline afflosciate che sembra che stiano per passare a miglior vita, ottenere delle piante che cresceranno, si rigenereranno e faranno dei fiori davvero incredibili, esattamente come quelli che state guardando. Se vuoi scoprire come si fa, basta che guardi il video e io ti svelo tutti i trucchi per poterci riuscire. Per prima cosa occorrerà prendere le orchidee che insomma non stanno benissimo e pulirle, tirarle via dal vaso e se come in questo caso ci sono tutte le parti secche o marce, tagliarle. Prendere una forbicina, mi raccomando prima di utilizzarla, sterilizzare le lame con un pochettino di acqua ossigenata o anche semplice alcol e tirare via tutte le parti marce, così. Non vi preoccupate di tirarle via perché tanto purtroppo queste alla pianta non serviranno più, sono secche, guardate, quindi non serve che rimangano lì, anzi marcendo potrebbero essere richiamo per funghi, muffe o batteri, quindi andare a provocare un danno alla pianta. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto, quindi non resta altro che aspettare che nei punti dove sono avvenuti i tagli, che adesso toccandoli sono bagnati e vivi, quindi probabili punti di passaggio per funghi, muffe o batteri dall'esterno all'interno della piantina, si crea una patina, lasciandolo semplicemente all'aria per 24 ore, dopodiché passare alle operazioni successive. Io vi consiglio di fare tutte le piantine che avete a disposizione nello stesso modo, quindi trattarle togliendo via tutte le parti marce, dopodiché provare a recuperarle. E pulite le piante, non resterà altro che procurarsi delle spugne, anche utilizzate andranno benissimo, purché prima di riutilizzarle queste vengano sterilizzate, casomai con un po' di alcol o di ammoniaca. Dopodiché prendere delle forbicine, sterilizzare le lame anche di queste prima di usarle, prendere la spugna, piegarla a metà in questa maniera e dove c'è la parte morbida andare a creare un taglio, così. Quindi prendere le forbicine, andare a metà della spugna, taglio secco e netto e l'operazione è ultimata. Questo, che è il che si è creato, sarà proprio la sede dove andremo ad inserire poi la piantina. Quindi prendere le piantine che avete a disposizione e andare ad inserire questa parte, quella dove in teoria si dovrebbero creare poi le radici, così, e spingere all'interno. Alla fine dell'operazione questo è ciò che dovresti ottenere. È importante che il punto dove poi spunteranno le nuove foglioline, quindi questo, rimanga fuori dal filo della spugna. Arrivati a questo punto procurassi un contenitore che sia alto almeno 3-4 cm e riempirlo sul fondo con circa un centimetro di acqua. Anche quella del rubinetto andrà benissimo. Dopodiché prendere la spugna ed andarla a poggiare all'interno, così. Arrivati a questo punto non resta altro che aspettare che poi questa piantina inizi a riprendersi e a generare sia le radici che le foglioline dall'interno. È importante che per tutto il periodo sul fondo rimanga sempre almeno un centimetro di acqua. Di più non servirà perché poi, per capillarità, la spugna l'assorbirà e rimarrà sempre costantemente umida. E ripetere la stessa operazione per tutte le altre piantine che state trattando. Quindi messe nella spugna e poi in un contenitore con dell'acqua. Primi risultati. Trascorsi più o meno 30 giorni, riprendendo una delle piantine che abbiamo inserito all'interno delle spugne, si può notare che questa ha già iniziato a far sviluppare un apparato radicale. Le radici sono davvero piccine, però il fatto che siano nate è davvero un ottimo segno. Provo a mostrarvele meglio. Come si può notare, ingrandendo l'immagine, ce ne sono tre che sono ben sviluppate, lunghe circa 5 mm, ma sembra che ne stiano nascendo tante altre. Il risultato è davvero soddisfacente. Risultati al quarantesimo giorno. Trascorso un'altra settimana, guardate un po' come le radici continuino a svilupparsi. Sono davvero perfette, ce ne sono tantissime e tutte sane e forti. Quindi direi che almeno sinora tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Esperimento al cinquantesimo giorno. Così è come appare la pianta. Guardate le foglioline come siano migliorate decisamente. Hanno un colorito verde scuro, ma soprattutto lucido. E in più andando a guardare nella parte centrale, la piccola fogliolina che c'era si è sviluppata e sta crescendo. Questa parte verde chiara lo dimostra. E le radici sempre più sviluppate. Arrivati a questo punto direi che si può procedere tranquillamente a spostare lei in un vasetto con della corteccia. Guardate qua come si siano sviluppate le radici. Sono incredibili. Operazione di travaso. Arrivati a questo punto procurarsi della corteccia. Mi raccomando, questa dovrà essere nuova. Così si eviterà che eventuali funghi, muffo o batteri presenti all'interno della stessa possano passare poi alla piantina. Procurarsi un vaso in plastica trasparente forato sul fondo. Andrà benissimo anche il fondo di una bottiglia con dei fori. E fare questa operazione. Semplicemente prendere la corteccia, fare un primo strato di circa 5 cm sul fondo. Così. Dopodiché prendere la piantina, facendo molta attenzione a non andare a appoggiarla perché sennò ci sarebbe il pericolo concreto che le radici col peso si possano rompere, tenendola, sostenendola letteralmente con le mani, andare ad inserire l'altra corteccia. E continuare ad inserire la corteccia all'interno sino a che tutto il vaso non sarà completamente pieno della stessa. E le radici ricoperte. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto. Quindi bisogna aspettare che lei cresca, sviluppi un apparato radicale più importante e che poi fiorisca. E da adesso in poi bisogna trattare lei esattamente come una qualsiasi altra piantina di orchidee. Arrivati al terzo mese, riprendendo il tutto, questo è ciò che si è ottenuto. La piantina è cresciuta davvero tantissimo. Oltre alle prime foglioline che adesso godono di ottima salute, ne sono nate delle altre nel centro e si stanno sviluppando in una maniera assolutamente perfetta. Se si va a guardare all'interno della corteccia, le radici si stanno sviluppando. Eccole qua. Guardate addirittura c'è questa che è cresciuta tantissimo. E pure quelle aeree hanno iniziato a svilupparsi. Eccole. Quindi direi che a fronte dei risultati ottenuti si può affermare senza ombra di dubbio che questa tecnica sia davvero valida. Ora vi faccio vedere una cosa che voi non dovrete fare. Tirerò fuori dal vaso il tutto per mostrarvi l'apparato radicale come realmente si sia sviluppato. Però, ripeto, questa è un'operazione che voi non dovete fare. Ecco qua. Guardate le radici come siano cresciute e come si siano sviluppate. Guardate un po'. E questo soltanto al terzo mese. Questa, ripeto, è un'operazione che voi non dovete fare. Guardate come comunque all'interno si siano sviluppate e come siano sane. È un risultato davvero incredibile. Quindi non resta altro che rimettere lei all'interno della corteccia in questo caso, ma voi non lo dovete fare, e aspettare che poi cresca. Risultato finale. Trascorsi poco più di due anni, questo è il risultato che si è ottenuto. Una pianta assolutamente perfetta. Radici, foglie e fiori incredibilmente belli. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Già che ci siete, dateglielo un'occhiata, perché adesso qualche video c'è e sono sicuro che qualcosa di carino tra questi riuscirete anche a trovarlo. Se vi piacciono questi video, vi chiedo un'altra cortesia, condivideteli sui social, perché così facendo mi aiuterete a far crescere il canale. E ringraziovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.